Lungo del gem Parisi, controllo fortunoso, Parisi può puntare la porta, il destro improvviso! Che beffa il portiere avversario! Ancora una grande iniziativa del numero 10, che porta nuovamente in vantaggio il gem calcio a 8. Risultato sul 2 a 1, gol di Parisi. Parisi fa solo la sfera il gem, può distendersi la squadra in maniera, Parisi il palo con il destro! Che occasione per Parisi! Parisi l'ha giocata e poi il tiro vincente del numero 10, che prima protegge la sfera e poi la manda in fondo alla rete con la complicità forse anche di una deviazione. A pochi secondi dalla fine arriva il gol del 4 a 2 per la gem calcio a 8, rete di Parisi. Allora Parisi, ancora lui utilissimo nei dribbling, che azione di Parisi! E poi il tiro!